Slitta ancora la partenza del Minuetto. Niente da fare per la prima corsa del treno che avrebbe dovuto collegare Modica e Palermo in poco più di quattro ore con unico cambio a Caltanissetta. Dopo il collaudo positivo sul tratto Modica-Ragusa, il treno sarebbe dovuto partire già lunedì 24 settembre e poi tutto è stato rimandato di una settimana. Ieri però un'altra fumata nera, tutto ancora rinviato e c'è la possibilità che la situazione non si risolverà in fretta, tanto che la partenza potrebbe essere posticipata addirittura al mese prossimo a causa del persistere di problemi tecnici nel tratto di Canicati. Intanto, sul sito di Trenitalia, gli orari delle tre corse veloci giornaliere delle 5.46, 7.56 e 15.56 non si trovano più. Al loro posto risultano di nuovo i vecchi treni che impiegano tra le 7 e le 10 ore con due o tre cambi per raggiungere il capoluogo isolano, un'odissea che solo i più coraggiosi possono affrontare. Sembra che i pendolari quindi debbano mettersi il cuore in pace e attendere ancora perché la promessa di carrozze moderne, climatizzate e veloci venga finalmente mantenuta.